direttamente la sky sport arrivano ottime notizie per la juventus di max allegri scopriamone oggi è qui su fashion sport qui vi ricordo come sempre che trovate tanti aggiornamenti sulla juve quindi se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella e supportateci con un semplice la che tra l'altro sta per tornare il calcio giocato quello che ci interessa e quindi mi raccomando seguite l'analisi pre e post partita sulla juventus ma chiaramente qua ci teniamo anche aggiornarvi su tutto quello il processo relativo alla juventus che ha per quanto riguarda l'ambito ordinario che per quanto riguarda l'ambito sportivo con i tanti ormai processi che vedono purtroppo la juventus coinvolta allora andiamo alla notizia perché è una juventus che deve chiaramente guardare all'ambito extracampo quindi con i vari processi con la procura federale la figc che sta sempre attenta e quindi cerca addirittura di ampliare i processi per poter attaccare la juventus ma c'è anche il campo da visionare e in questa pausa per le nazionali c'era stata qualche problema relativo a dei infortuni uno in partecipare al modo ha preoccupato la dirigenza di autos e lo staff medico di allegri che è sicuramente quello di film costi per quanto riguarda film costi c'era grande apprezzione perché perché un ragazzo che fino ad ora è stato a sorpresa oserei dire uno dei delle più belle scoperte dell'ultimo calcio mercato un giocatore che io avevo sponsorizzato per tutte le state dicendovi occhio perché questo è uno che il pallone in mezzo lo sa mettere come crossatori ce ne servono come il pane non è bravissimo nel saltare l'uomo vi avevo raccontato questa caratteristica ma ha un sinistro che è millimetriche molto spesso e riesce a mettere i giocatori e i compagni nelle condizioni per poter far gol detto fatto assistment straordinario è addirittura entrato ancora più nei cuori di tifosi juventini quando quando ha fatto il gol decisivo per la vittoria della juventus contro l'inter ecco da questo punto di vista poi quando va in nazionale e si fa male avevo raccontato del ct serbo stoico che aveva annunciato l'assenza di kostic aveva preoccupato tutti se era fermato per un'infiammazione al termine di achille ma attenzione perché stando a quando dice sky sport non ci sono state lesioni quindi il giocatore sarà regolarmente a disposizione dei max allegri per la sfida di sabato sera contro il verona e attenzione perché poi ci sarà anche la sfida la semifinale di andata dei coppa italia contro l'inter quindi parossalmente potrebbe anche esserci un notore un turno di riposo contro il verona in vista e la sfida con l'inter perché ricordiamolo che da questo punto di vista la novità è proprio relativa al fatto che ci sarà un periodo di aprile che tra i processi quindi le varie sentenze il collegio garanzia del con il la manovra stipendi e quant'altro sarà caldissimo anche quanto riguarda il campo perché ci sono sfide di campionato importantissime ma poi ci sono le semifinali di andate di ritorno con l'inter di coppa italia e i quarti di finale contro lo sport di europa league quindi tutto questo in un mese immaginate che clima sarete per questo che vi dico scrivete perché qui troverete costanti aggiornamenti sulla juventus attenzione perché la novità potrebbe anche essere relativa a che cosa al fatto che la juve potrebbe far scendere in campo samuelini junior perché se costi c'è ma forse si vuole tenere un po caldo per la sfida dell'inter e abbiamo visto che con l'inter sa e ed è stato pericoloso beh è chiaro ed evidente anche che contro il verona che è la squadra che in questo momento di certo non naviga in una sezione ottimale di classifica essendo appunto terzo ultimo ma comunque essendo una squadra che vuole fare punti un giocatore come sale samuelini junior che tra l'altro viene da una doppietta in under 20 contro al germania e che è stato adocchiato tanti club europei e ne parleremo beh è una chance importante perché questo settore giovanile sta dimostrando di essere parecchio utile abbiamo visto su lei dal primo minuto contro l'inter a san siro quindi e io ritengo su lei indietro nel percorso di crescita rispetto per esempio a samuel junior quindi non vedo perché l'esterno inglese tutta fascia non possa sostituire costi in questi momenti tra l'altro interessante come questo come dire come questo percorso che sta facendo l'under 23 possa in qualche modo essere utile e la next year possa essere utile perché tanti giocatori avventus ora si trova come alternative sono giocatori che inizialmente erano visti come dei giovanissimi non potrebbero essere utilizzati fagioli era un perno quest'estate si pensava come il giocatore che vede dall'ex gen ma chissà quando gioca età giocherà idemiretti invece l'avventus sfruttando appieno questi giocatori tra l'altro altre notizie particolari arrivano da altri giocatori uno di questi è proprio miretti perché le notizie non si fermano qua perché c'è anche il recupero di alexandro che secondo me nonostante il recupero potrebbe riposare in vista dell'inter e potrebbe giocare invece col verona il buon gatti che attenzione anche lui giovane ma si è fatto vedere pronto sia in europa league che soprattutto contro l'inter altra notizia positiva è tornato arek milic giocatori di cui abbiamo parlato vi ho parlato di un milic che secondo me è uno dei insieme a costic però solamente sembravano gli ultimi dopo paredes dopo pogba dopo tutti gli altri invece secondo me insieme a di maria sono i tre migliori colpi della stagione milic tra l'altro verrà breve riscattato per 7 milioni di euro quindi una cifra bassissima io milica 7 milioni lo prendo tutta la vita e poi ricordiamoci anche del recupero di fabio miretti devo dire che fabio miretti in questo percorso di crescita di cui abbiamo parlato mi sembra francamente quello che sta trovando più difficoltà ora con i giovani attenzione ci sono quelli che crescono prima vedi fagioli che incredibile stagione sta facendo vedi poi miretti non vuol dire che uno è fortissimo e l'altro scarso vuol dire che probabilmente miretti che ricordiamo l'anche più giovane di fagioli ha bisogno di un po di crescita forse servirebbe un anno di prestito a miretti perché ricordiamoci che rovella è in prestito da un sacco di tempo ed è stato ulteriormente mandato in prestito al monza e l'anno prossimo tornerà ranocchia si sta facendo un anno di serie a col monza fagioli si è fatto un anno di serie b con la cremonese miretti è stato invece lanciato immediatamente e affascinato anche da quelli che erano gli elogi di max allegri ha deciso di rimanere e di farsi la stagione interamente la viventus ecco oggi probabilmente a fine aprile fine marzo inizio di aprile ci rendiamo conto che forse un periodo di di prova in prestito altrove potrebbe essere utile io ve la dico ve la butto lì se dovesse tornare al cento per cento alla prossima pogba e se dovesse ritornare rovella per sostituire paredes e il resto del centrocampo rimanere così beh io un miretti in prestito francamente lo manderei perché credo che possa diciamo migliorare gli unici dubbi che rimangono per la sfida di di verona sono al di là di pogba che bisognerà aspettare ancora un altro po sono quelli legati a bonucci ea chiesa l'abbiamo detto che bonucci avrà ancora bisogno di qualche giorno perché ha dovuto saltare impegno nazionale per un problema fisico con chiesa credo sia più una questione mentale perché è andato in austria per chiarire i problemi legati al fisico al ginocchio non operato quindi non quello destro quello sinistro è attualmente non ci sono problemi io credo che però con chiesa sia più un fattore di testa cioè deve riconoscere quella e deve ritrovare quella sicurezza che da un punto di vista fisico attualmente gli manca forse appena si sblocca da quel punto di vista potremmo rivedere quel chiesa ad oggi è difficile comunque sta di fatto che arrivano comunque notizie positive perché come detto c'è il ritorno di kostic probabilmente però comunque verrà sostituito a samuel in un euro che non ha comunque una doppia buona notizia perché si l'hai recuperato ma magari te lo tieni stretto per la semifinale di coppa italia contro l'inter e dai una chance a samuel in un euro che decisamente il giocatore che può fare male a questo verona